Gli intercity si rinnovano. Trenitalia FS italiane e il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture hanno infatti presentato i nuovi servizi che da oggi saranno attivi sui convogli. Le novità, come informa Trenitalia, riguardano il contratto di servizio 2017-2026 che consentirà di migliorare la flotta, che opera sui 108 collegamenti quotidiani, di cui 88 giornalieri e 20 notturni. Il servizio intercity, che per il 70% interessa del sud Italia, è utilizzato da 14 milioni di persone ogni anno. Il contratto di servizio prevede 1,4 miliardi di investimento che sono stati utilizzati per abbassare l'età media della flotta. Alla fine del 2018, il totale degli iscritti alla Previdenza complementare è pari a circa 7,9 milioni, in crescita del 4,9% rispetto all'anno precedente, per un tasso di copertura del 30,2% sul totale delle forze lavoro. Le posizioni in essere sono 8,7 milioni, a rilevarlo la Covip nella sua relazione annuale. A fine 2018, le risorse accumulate dalle forme pensionistiche complementari si attestano a 167 miliardi di euro, un aumento del 3% rispetto all'anno precedente, un ammontare pari al 9,5% del PIL e al 4% delle attività finanziarie delle famiglie italiane. Italgas ha presentato il piano strategico del gruppo per il periodo 2019-2025. Il nuovo piano si articola su quattro direttrici, innovazione e trasformazione digitale della società attraverso la digitalizzazione degli asset, dei processi e lo sviluppo delle competenze digitali per tutto il personale, la realizzazione della rete di distribuzione di gas naturale in Sardegna, nuove operazioni di fusioni, acquisizioni e ulteriore crescita organica. Il piano prevede un significativo incremento dei programmi di investimento, pari a 500 milioni di euro rispetto al precedente, per traghettare la società nell'era digitale, rafforzandone la leadership a livello europeo. Simest, società che con Sace costituisce il polo dell'export e dell'internazionalizzazione del gruppo CDP, ha sostenuto nel bimestre, aprile e maggio, l'espansione nel mondo di 121 PMI italiane. Sono stati stanziati i finanziamenti agevolati per circa 46 milioni di euro che permetteranno alle aziende di fare il loro ingresso e rafforzarsi sui mercati internazionali, promuovendo il Made in Italy. Le risorse provengono dal fondo pubblico che Simest gestisce per conto del Mise. Razionalizzare il sistema Conad per affrontare il mercato, sempre più complesso e competitivo, forti di nuove scelte strategiche capaci di portare efficienza al modello imprenditoriale. È la filosofia alla base del processo di concentrazione delle sette cooperative di Conad. La prima fusione, quella tra Conad del Tirreno e Nord di Conad, votata dalle rispettive assemblee dei soci, porta alla nascita di Conad Nord-Ovest. La nuova cooperativa vale circa 4 miliardi di euro di giro d'affari e può contare su un patrimonio netto di 628 milioni, una fonte di finanziamento interna che testimonia le alte potenzialità di sviluppo della struttura.